Loredana Latessa, sindaco di Oratino, tra pochi giorni si apre questa manifestazione Burgo Divino, quali sono i riflessi sul territorio? È un territorio sempre attivo dal punto di vista sociale e di promozione, quindi un'altra occasione per promuovere il Paese e le sue bellezze. Sì, questa è una manifestazione che ospitiamo e che per noi rappresenta una grande soddisfazione nell'ambito delle iniziative che in questi anni abbiamo promosso coi borghi più belli d'Italia. Sì, è un'importante occasione di promozione non solo di Oratino, ma credo di tutto il Molise. La materia sono i vini, quindi la qualità dei vini di cui il Molise è ricco, quindi Oratino diventa un po' la culla, il teatro di questa bevanda in cui il Molise accelle. Sì, ci sono state 13 cantine molisane che hanno aderito all'evento, tra le 30 e le tante che in realtà parteciperanno, quindi la promozione del nostro vino, della nostra realtà in un ambito di confronto anche nazionale. Paolo Spina, Presidente della Camera di Commercio di Campobasso, tutto pronto per Borgo di Vino in tour e la tappa molisana di Oratino. La Camera di Commercio ha svolto un grande ruolo su questo perché crede in questa nuova forma di turismo dei wine lovers, ma anche sulla promozione del territorio molisano che è ricco di eccellenze, non solo dal punto di vista dei vini. Sì, lo ha detto lei, noi abbiamo aderito con forza e convintamente a questa edizione del 2023 di Borgo di Vino, è la terza edizione che viene fatta a livello nazionale e la prima volta che il Molise è presente. È presente nel Borgo di Oratino, è un investimento che noi abbiamo fatto nel 2000 e per il 2023, ma saremo anche nel 2024 e nel 2025 in altri borghi della nostra regione. Gli obiettivi erano due, tra i tanti, due importanti. Il primo è già stato raggiunto perché sostanzialmente siamo riusciti a portare i vini molisani nelle altre regioni, nelle altre 15 tappe. L'obiettivo più ambizioso è quello di portare non solo il vino in Lombardia, il vino in Piemonte, ma i piemondesi nel Molise, i lombardi nel Molise, gli italiani nel Molise, grazie, come ha detto lei, anche a questa nuova forma di turismo che è cambiato, il turismo è un dato di fatto è cambiato, da turismo vacanziero siamo arrivati a un turista viaggiatore, un turista che vuole viaggiare, che fatica anche quando è libero dal lavoro, è libero psicologicamente e fisicamente dal lavoro, ma vuole conoscere altri territori e gli usi, le costituzioni, i vini e la gastronomia dei territori. La Camera di Commercio che lei rappresenta è un ente come anche la regione Molise che adesso ha un nuovo Presidente, quindi come ci si può interfacciare in questo senso affinché si lavori tutti insieme per questo obiettivo? Noi come Camera di Commercio abbiamo sempre avuto un rapporto con l'ente regione che è il nostro ente di riferimento, però è necessario che ci sia una condivisione e per condividere e cum dividere, quindi dividere assieme, stare insieme, noi siamo pronti a dare il nostro appoggio alla regione Molise. È evidente che senza l'intervento della regione si è monchi sostanzialmente. Filippo Massimo, responsabile Rapporti Istituzionali Borgo Divino, tappa in Molise di questo tour nazionale a Doratino. Il Molise, ricordiamo, è l'unica regione che farà esposizione dei suoi vini in tutte le parti d'Italia. Che impressione ha avuto da questo territorio? Ha un'accoglienza straordinaria, un'empatia immediata e quindi come gruppo che rappresento e valica che è l'organizzatore di questo tour insieme alla partnership dei borghi più barili d'Italia ed Eccitalia siamo veramente felici di essere qui in Molise. La sensazione è stata, non dico sbalorditiva, ma quasi, perché il Tintilia e i vini molisani hanno avuto un successo decisamente importante in tutte le tappe realizzate finora. C'era curiosità, c'era affluenza e c'era anche volontà di capire e scoprire queste prelibatezze. A livello promozionale una regione come il Molise, che forse dai più non è ancora conosciuta, come può spingere per farsi conoscere, per far conoscere le proprie eccellenze? Ma naturalmente eventi come questi contribuiscono a far conoscere le eccellenze e le prerogative caratteristiche turistiche ed enogastronomiche del Molise. Ma le strategie possono essere tante. Io dico che a volte l'essere ancora acerbi, perché non sfruttati, perché ancora poco conosciuti, può essere un punto di vantaggio e che sicuramente può risultare appetibile per alcune categorie di turisti. Il trekking, i turisti che si spostano in moto, i camperisti, anche perché ci sono difficoltà logistiche. Io vengo da un'altra regione e per raggiungere il Molise è stato complicato. Quindi credo che un turismo culturale, un turismo slow, un turismo automunito, quindi biciclette, camper, eccetera, possa essere uno dei guid in più per sviluppare e ampliare l'affluenza dei turisti qui in Molise.